Questo video riguarda i migliori 3 attaccapanni. Il vincitore della qualità è il Song Mix Appendi Abiti. 18 ganci alla traversa per appendere gli abiti, la portata massima del gancio è 5 kg, adatto per borse, asciugamani, cinture, eccetera, 3 ripiani al sotto come scarpiera per riporre scarpe o le scatole di organizzazione. Ha una bella apparenza, ben si postala all'ingresso, sala, soggiorno, camera da letto, eccetera. Le strutture sono realizzate di tubi in acciaio di diametro 32 mm, durevole e senza debolezza, i tubi dei ripiani sono di 19 mm, e i tubi laterali sono di 16 mm, la portata massima del ripiano è 40 kg. Permette di mantenere l'appendi abiti verticale con i piedi regolabili. Grazie alle strutture semplici e i meccanismi di attacco che facilitano il montaggio o smontaggio, è possibile praticare senza attrezzi. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'Umbra Flip attaccapanni. Più di un semplice appendi abiti, Umbra Flip è un binario originale montato a parete, dotato di ganci a scomparsa per appendere svariati oggetti, tra cui cappotti, sciarpe, borse, ombrelli, asciugamani, vestiti e altro. Diversamente dagli appendi abiti tradizionali, che occupano prezioso spazio a terra, Flip è una soluzione montata a parete ideale per gli spazi piccoli o i corridoi stretti. Disponibile in una varietà di finiture eleganti da abbinare al tuo arredamento, Flip è abbastanza versatile da poter essere installato su qualsiasi parete della tua casa. L'attaccapanni a parete con ganci Flip è completo di istruzioni di installazione passo dopo passo, semplici da seguire, e di tutti gli accessori necessari per montarlo facilmente a parete in pochi minuti. Con sede a Toronto, in Canada, Umbra è leader mondiale nella progettazione di prodotti e attualmente distribuisce in oltre 120 paesi in tutto il mondo. Il vincitore del premio è l'Umbra Attaccapanni. Più di un semplice appendiabiti, Umbra Flip è un binario originale montato a parete, dotato di ganci a scomparsa per appendere svariati oggetti, tra cui cappotti, sciarpe, borse, ombrelli, asciugamani, vestiti e altro. Diversamente dagli appendiabiti tradizionali, che occupano prezioso spazio a terra, Flip è una soluzione montata a parete ideale per gli spazi piccoli o i corridoi stretti. Disponibile in una varietà di finiture eleganti da abbinare al tuo arredamento, Flip è abbastanza versatile da poter essere installato su qualsiasi parete della tua casa. L'attaccapanni a parete con ganci Flip è completo di istruzioni di installazione passo dopo passo, semplici da seguire, e di tutti gli accessori necessari per montarlo facilmente a parete in pochi minuti. Con sede a Toronto, in Canada, Umbra è leader mondiale nella progettazione di prodotti e attualmente distribuisce in oltre 120 paesi in tutto il mondo. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.